incredibile, incredibile questo Parma che non molla, tenacia, combattività, grinta, voglia, voglia di giocarsela fino all'ultimo e questo alla lunga paga e sta ottenendo dei risultati veramente oltre ogni previsione poi con quei colori della maglia il Parma mi fa innamorare con quelle strisce orizzontali manca solo lo sponsor Parmalat e poi veramente nostalgia pura, nostalgia pura che maglia che con le Parma dà tante emozioni, non lo so, per me è stata sempre una squadra storica in Serie A grande 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 Parma e che dire della Juve, alla fine puoi essere forte quanto vuoi ma se ti vengono a mancare tutti i difensori anche se ti chiami Juve ne paghi le conseguenze e per esempio la cessione di Benatti ha rotto un po' le uova nel paniere in casa Juve secondo me perché Cazares non è all'altezza della Rosa e della Juve, Cazares, parliamoci chiaro, enormemente colpevole in molti casi a mio avviso, l'inglese l'ha sovrastato in tutti i modi in questa partita e alla fine non so se dire pari giusto però alla fine è arrivato questo pareggio e quello che abbiamo sempre detto che la Juve molte volte non le chiude sino in fondo le partite e si fa riacciuffare in alcuni casi, questa sera sì perché mancava i difensori e questi sono stati enormemente complici di errori gravi a mio avviso il primo una disattenzione clamorosa di Cancelo, Cancelo croce e delizia, croce e delizia Cancelo in fase offensiva è veramente da pallone d'oro, in fase difensiva ancora è molto ma molto da riguardare il ragazzo e poi gli altri ripeto, gli altri troppe disattenzioni, disattenzioni non da Juve ma ripeto di giocatori che non sono i titolarissimi e ne paghi il prezzo Ronaldo doppietta, si parlerà di lui, si parlerà della doppietta, si parlerà di tante cose ma io voglio parlare di due giocatori in particolare, due giocatori uno, e l'avevo già menzionato in passato in un video recente che dira, è un centrocampista che adoro talmente assai perché veramente fa gol fa inserimenti incredibili e oggi è stato il più pericoloso, due pali e un tiro veramente a giro bellissimo che sepe, sepe il portiere del Palma, sepe veramente ci ha messo, ha fatto un tuffo bellissimo e ci ha messo i guantoni ma che dira, è quel centrocampista che vorrei all'Inter è quel centrocampista da cui deve imparare il nostro buon vecino che solo chi non guarda le partite e si limita a leggere i titoli del giornale è garraciarrua, garraciarrua, gol decisivo, gol questo, gol quell'altro quando poi nel 90% delle partite non è mai incisivo ma questi sono dettagli perché noi ci fissiamo sui titoli dei giornali invece se guardassimo le partite capiremmo che i giocatori da valorizzare sono ben altri stesso discorso faccio su un altro giocatore Mandzukic Mandzukic è il vero, è il vero fenomeno di questa squadra Mandzukic è il vero fenomeno della Juventus tutti a parlare di Ronaldo Ronaldo quante volte va in bagno che slip usa i pantaloncini se cambia un paio di scarpe tutti i bambini di questo mondo vogliono quello che indossa lui se lui non lo so un domani inizia a prendere il vizio del fumo tutti i ragazzini vogliono diventare fumatori perché lo fa Ronaldo questo è sbagliato a mio modo di vedere sicuramente è un esempio di professionalità unico Ronaldo è perché veramente un professionista vero a mio avviso troppo egocentrico a differenza di Mandzukic di Marione Marione che se allenassi in una scuola calcio farei vedere da mattina a sera video su video di quello che fa Mandzukic durante le partite quello che fa Mandzukic durante le partite è da poesia del calcio è quello cioè rincarna i valori del calcio rincarna tutti rincarna tutti i valori del calcio grinta audacia forza altruismo altruismo quante sponde oggi sui tre gol in due in due è frutto suo in due sono frutti di due due genialate due cross messi bene in mezzo inserimenti tutto corsa tutto 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 e non è un caso che con il rientro di Mandzukic questa squadra abbia preso abbia abbia segnato con facilità non è un caso non è un caso non è assolutamente un caso la mattina sera video di Mandzukic video di Mandzukic video di Mandzukic questi sono i giocatori che amo questo è il prototipo di giocatore che amo ed è uno che fa tutto ed è uno che potrebbe fare benissimo quello che fa nella nostra squadra Icardi a Mandzukic se lo metti prima punta e ti deve fare solo la prima punta ti fai gli stessi gol di Icardi se non di più e l'abbiamo visto e l'abbiamo visto nella Juve quando fa la prima punta e deve fare solo quello ti fai gli stessi gol di Icardi perché è un attaccante vero è un attaccante totale è Mario Mandzukic punto va bene non si non un pareggio che ci sta la Juve resta a nove punti a nove punti fa un campionato a sé a nove punti dal Napoli per cui va bene così un grande abbraccio amala sempre e comunque se ancora non l'hai fatto lascia un like alla mia pagina Facebook iscriviti al canale YouTube e seguimi su Instagram grazie a tutti grazie a tutti